In un'area dell'entroterra calabrese particolarmente povera, la nocciola è diventata, grazie all'impegno delle istituzioni e delle organizzazioni professionali agricole, il simbolo di uno sviluppo possibile e reale, dal basso, l'iniziativa Nocciola d'Oro che si svolta domenica a Cardinale nelle Serre Catanzaresi. Costituisce un esempio virtuoso della capacità di fare rete tra enti locali, produttori e rappresentanze del settore e mondo politico. Sia dall'amministrazione di Cardinale che quella di Torre di Ruggero, in quanto il Gale ci ha dato la possibilità, a mezzo dei finanziamenti che dovevano essere per Expo 2015, c'erano questi finanziamenti, l'abbiamo messo insieme, come ho detto, l'abbiamo fatto un unico finanziamento e abbiamo deciso di farlo a Cardinale, perché circa 7-8 mesi fa è stata fatta a Torre Nocciola dei, perché l'amministrazione di Cardinale vorrebbe riprendere questa attività della nocciola, perché Cardinale ha avuto dei momenti molto felici per quanto riguarda la nocciola. Negli anni 70-80 fino agli anni 90 Cardinale viveva con le nocciole, c'erano molti agricoltori, piccoli agricoltori, io ricordo perché anche noi avevamo degli appezzamenti di terreno che c'erano coltivato a nocciolo, era una fonte di reddito. Negli ultimi anni è andata via via sempre diminuendo, diminuendo, adesso grazie al consorzio del nocciolo sempre che stia emergendo. Il sindaco di Torre in questi anni ci ha creduto e quindi ha fatto emergere questo prodotto anche a livello regionale e non solo, quindi speriamo che sia un momento di ripresa, di ripresa per i piccoli coltivatori. Solo stasera celebriamo il prodotto nocciola che, come lei sa, io ritengo che sia il simbolo esistenziale di questi territori, su cui bisogna ovviamente ancora lavorare in attesa di questo benedetto IGP e quant'altro. Ma direi che stasera si verifica un'altra cosa bella, ma in maniera concreta. Noi stasera a Cardinale, col sindaco e l'amministrazione di Cardinale, Torre di Ruggero nei confronti dell'amministrazione di Cardinale, abbiamo insieme deciso di celebrare questa manifestazione qui a Cardinale, così come la volta precedente abbiamo deciso di celebrare l'assista nazionale a Torre di Ruggero. Questo credo che sia un esempio di come due comuni possano mettersi in rete, fare squadra, ragionare. Forse ci proietta, come non mai, verso il futuro, lei sa che io ho lanciato qualche mese addietro l'idea della unificazione dei due comuni. Io ritengo che Cardinale e Torre debbano avere questo destino in comune. Ormai hanno tutto in comune e soprattutto hanno questo prodotto magnifico che è la nocciola.